E allora vorrei qui con me il Vice President of the European Parliament, Onorevole Fabio Massimo Castaldo. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie di vero cuore. Buonasera, benvenuti qui in Salto Lake. È davvero un honore per me di ricevere qui, di ricevere qui, insieme a voi, 16 team nazionali qui, con 120 atleti. Possiamo dire che per la prima volta qui abbiamo la più grande rappresentazione in una campeonato europea di wakeboard. E sta succedendo qui, in Salto Lake, qui, in Ciccolano, qui, in la meraviglia del Departamento di Rieti, in Italia. Molti volte puoi sentire da politici che siamo rilassati o che stiamo sentendo un grande honore e un passione per presentare un evento come questo. In mio caso, è un bel honore, perché ho spento 30 anni, 30 anni, vivendo in un piccolo villaggio, Roccavittiana. È una parte della migliorazione di Varco Sabino. E questi paesi, questo luogo, questa meraviglia di natura, è entrato sotto la mia pelle. È parte del mio cuore, è parte della mia vita. E vedere un'occasione come questa, in cui possiamo vedere la natura, la tradizione e la storia. Finalmente, si incontriamo con l'innovazione, con il sport e con il futuro. Questo è un sogno che sta diventando una realtà. E per questo sogno, voglio, una volta, ringrazio, la federa, la federa, la federa, la federa, la federa europea, la federa italiana. All'organizzazione, 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 all'organizzazione. Ma, per esempio, una persona, il mio buon amore, Claudio Ponzani, che non è solo un buon businessman, non è solo il presidente di Varco Sabino, Sinnautico e Wickwork Club, è uno dei migliori persone che ho mai mai metto in mia vita, uno dei migliori. Grazie mille per tutte le forze che hai fatto. E possiamo dire che per questa edizione, per la prima volta, abbiamo anche un alto patroneggio del Parlamento europeo. Perché? Perché siamo capiti, abbiamo discutito molte volte con i colleghi e del livello europeo su quanto il sport è importante per creare questa cultura di solidarietà, questa cultura di knowledge, questa cultura che sta davvero approcciando le persone da tutte le parti dell'Europa, da tutte le parti del mondo. Il sport è un linguaggio universale. E oggi, abbiamo fatto questo linguaggio molto forte e molto forte, qui, in questa valle, qui, in questo luogo. E voglio dire un'altra cosa importante. Mi sento già le vibrazioni che gli atleti vogliono iniziare la competizione, vogliono mostrare i migliori strumenti che hanno preparato, che hanno studiato molto fortemente durante i ultimi mesi. Ma ciò che sta davvero facendo la differenza oggi, è pensare sulla perspectiva di vivere qualcosa. E, davvero, quello che ho aspettato, quello che è il mio più obiettivo dell'Europa europea, è che le parole del famoso giocatore di tennis, Artur Asch, devono essere vero. Perché credo che il vero sogno per un atlete è di pensare che deve vivere il sport, il sport che ha davvero amato durante la sua carriera, in molto più migliori condizioni, in molto migliori condizioni, comparando con le condizioni in cui ha trovato il sport quando ha iniziato a praticare. E questo è il mio più obiettivo di oggi che sto expressando a voi. Aggiungi questa competizione, aggiungi questa campeonazione, aggiungi questa meravigliosa e aggiungi l'hospitalità delle persone, da Ciccolano, da Rieti Departamenti. che vedrete, è solo straordinario, ma dupo e no, ho spero che i migliori vengono e avranno il risultato che stanno sogno e che stanno cercando. Buona fortuna per questo. Divertitevi qui sul Lago del Salto perché ne vale veramente la pena. Non c'è posto più straordinario, non c'è posto che entrerà di più nei vostri cuori. Vi ringrazio di vero cuore, grazie per queste bellissime emozioni, ma grazie soprattutto per questi 32 anni che ho potuto vivere insieme a voi. È un onore rappresentarvi, è un onore potervi dire che finalmente ce l'abbiamo fatta e questo sogno è diventato realtà. Forza Ciccolano e forza Lago del Salto.